Anziani e disabili di Sansevero costretti a recarsi fuori città per prestazioni diagnostiche di base, esami vitali impossibili per una donna diversamente abile di Ortanova a causa della sospensione dei servizi a domicilio presso l'ospedale d'avanzo di Foggia. Due facce della stessa medaglia restituite dalle cronache in queste ultime ore. La denuncia è di Joseph Splendido, il consigliere regionale della Lega ha depositato l'ennesima interrogazione urgente all'assessore regionale alla sanità Rocco Palese. Mentre restiamo in attesa di risposte sulle bibliche liste d'attese in Puglia e sui dati allarmanti restituiti dalla recente audizione in Commissione Sanità degli ordini di categoria e delle rappresentanze sindacali che hanno denunciato la di circa 16 mila medici e di 5 mila infermieri nei nostri ospedali, notizie sconfortanti giungono dal Masselli Mascia di Sansevero e da Ortanova, afferma Splendido, che prende spunto dalla denuncia a livello nazionale del movimento italiano disabili con il nosocomio sanseverese che non garantirebbe prestazioni diagnostiche di base neanche alle categorie più fragili quali anziani e disabili costretti a recarsi fuori città. Caso a cui si aggiunge quello di una donna disabile che si starebbe vedendo negare il diritto alle cure a causa della sua fisiologica impossibilità di raggiungere l'ospedale d'avanzo che non garantirebbe la domiciliarità del servizio. Una sanità che dice ancora il consigliere Foggiano della Lega, da un lato progetta mega ospedali futuristici e ci racconta di strutture diagnostiche di ultima generazione e dall'altro, violando l'articolo 32 della Costituzione, nega prestazioni di base alle categorie più fragili, una dicotomia preoccupante sulla quale è dovere delle istituzioni intervenire con urgenza.